Alibaba.com nasce in Cina nel 1999 con l'intento di rendere facile il business imprese con imprese. È il più grande marketplace B2B al mondo e si inserisce all'interno di un contesto B2B dove trovano allocazione profittevole anche aziende della filiera logistica, oltre che aziende ovviamente produttive. Quando parlo di aziende produttive raccontiamo di più di 40 categorie merceologiche presenti in piattaforma è 5.900 sotto categorie con una fisarmonica di imprese che spazia da aziende medio-grandi a piccole e medie imprese che sono il tessuto economico e imprenditoriale italiano. Siamo presenti in Italia con un ufficio che è il primo ufficio dell'Europa continentale e questo ci rende molto orgogliosi perché siamo riusciti a portare una grande tecnologia, una grande tech corporate a sviluppare il mercato europeo proprio partendo dall'Italia che resta una priorità fin da subito, è stata una priorità e resta oggi la priorità per Alibaba.com.